C'è una svolta nelle indagini per la morte di Roberta Bertacchi, la ragazza di 26 anni, originaria di Ruffano, che il 6 gennaio scorso è stata trovata senza vita con una sciarpa legata al collo nell'abitazione in cui era affittuaria, a Casarano. L'APM titolare delle indagini, Simona Petrolo, ha iscritto nel registro degli indagati Davide Falcone il fidanzato della ragazza con le accuse di stigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia. Il 34enne era stato ascoltato dai carabinieri del locale comando Compagnia poche ore dopo il ritrovamento del corpo della fidanzata e aveva riferito agli inquirenti di aver accompagnato a casa la vittima la sera precedente, per poi fare ritorno nella sua abitazione poco dopo dove aveva passato la notte insieme ai suoi figli. Nei giorni successivi l'attività d'indagine dei militari, grazie anche alle testimonianze degli amici, aveva accertato che quella sera c'era stato un litigio tra i fidanzati, in seguito al quale i due si sarebbero poi separati. Utile allo sviluppo delle indagini potrebbe essersi rivelata la consulenza sul cellulare della vittima effettuata dall'ingegnere informatico Maurizio Ingrosso e depositata nei giorni scorsi, attraverso la quale è stato chiarito il contenuto e la quantità di messaggi e contatti avvenuti tra la 26enne e il suo fidanzato.